Amici carissimi dell'Umbria vera e di Giada, salve a tutti. Mi trovo presso la New Well Technology qui a Taverne di Corciano per l'assegnazione di quattro voucher per la partecipazione al percorso formativo in saldatura destinato a persone disoccupate. Grazie alla presenza del presidente del Rotary Club di Gubbio, l'ingegnere Stefano Pisone. Presidente, ben trovato. Una bellissima giornata, un bellissimo evento presso la New Well Technology. Ci spieghi la presenza del Rotary Club di Gubbio. Grazie per avermi invitato e sicuramente questo è stato un momento per cercare di dare un supporto all'economia molto provata della nostra città grazie al Covid. Quindi nelle varie attività di service che abbiamo fatto come Rotary Club, oltre ad andare a dare un supporto ai medici di base, alla protezione civile nel momento massimo della crisi e con i DPI, abbiamo pensato a cosa si può fare per andare a stimolare l'economia e dare un supporto a chi ha perso il lavoro. Quindi, grazie al nostro socio Sandro Urbani e quindi alla New Well Technology, abbiamo pensato di dare dei voucher offerti dalla società New Well Technology per formare e dare quindi un'opportunità. Tra l'altro, lavorando io nel settore automotive, i saldatori sono sempre ricercati. Quindi, in collaborazione con il Comune che ci ha dato il patrocinio, abbiamo aperto questo bando. All'inizio avevamo pensato a una fascia di età da 48 anni a increscere, perché le persone che hanno sopra 45 anni è più difficile che trovino un lavoro. Però fra quelli che avevano sopra 48 anni non ha partecipato nessuno, allora abbiamo aperto a tutte le età e il condizio sine qua non era essere disoccupati. Quindi, allora abbiamo avuto diverse richieste e quindi siamo arrivati a trovare i quattro candidati per fornire i quattro voucher per far sì che i NIC iniziasse questo corso. Bene, noi ringraziamo la presenza dell'ingegner Stefano Pisoni, presidente del Rotary Club di Gubbio.